Noi siamo qui in piazza del Campidoglio con una piattaforma intercategoriale in nove punti, sono 20 le categorie che si sono schierate a fianco degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori. Oggi salutiamo con gioia la presenza delle organizzazioni, delle associazioni dei braccianti rurali e della motopesca, i ristoratori, salutiamo tutti gli altri soggetti che sono in campo con noi. Il tema è la perdita assoluta di valore della nostra produzione. Questo è un paese che ha perso l'anima, che è stato svenduto all'idea che possiamo essere una grande piattaforma commerciale speculativa in cui dentro non c'è più il frutto del lavoro dei nostri pescatori e dei nostri agricoltori. Noi oggi siamo qui, ieri abbiamo incontrato una nostra delegazione, il governo, al governo abbiamo posto un tema chiaro, serve cambiare direzione. Sappiamo che servono riforme che chiediamo al Parlamento, sappiamo però che servono anche misure urgenti prima che ci sia un tracollo. Alla Meloni, al governo chiediamo oggi una dichiarazione di stato di crisi, intanto del nostro agroalimentare e delle nostre aree rurali e della pesca, chiediamo che in nome di questa dichiarazione di stato di crisi si vada insieme in Europa, che non può essere la scusa per non affrontare le questioni che pure si producono qui. Al governo diciamo se vogliamo fare su serio, andiamo oltre i contentini, oltre le misure che pure non sono negative, ma serve altro.